Quest'anno commemoreremo il cappellano del Versagliere Don Giovanni Mazzoni, insegnato di due medaglie d'oro, la prima conseguita nella prima guerra mondiale come cappellano militare della brigata Arezzo e la seconda conseguita alla memoria come cappellano militare del terzo reggimento Versagliere, perché il nostro Don Giovanni Mazzoni morì nella battaglia di Natale del 1941 in Russia cercando di soccorrere un Versagliere che è venuto perdendo le sue emozioni, quindi una grande figura per il mio segnato. E in più commemoreremo anche il centenario della fondazione dell'Associazione Nazionale Combattente di Rialucini, che fu fondata nel 1919 fra tutti i combattenti delle grandi guerre, quindi una ricorrenza importante.